Quello che è accaduto a Ferragosto a Canne della Battaglia non dovrà ripetersi nel prossimo anno né in tutte le altre giornate festive. L'auspicio è per certi versi una sorta di impegno, lo firma il consigliere regionale Ruggero Mennea, che annuncia da settembre la disponibilità di nuovi fondi per far decollare la legge regionale per la valorizzazione di questo importante sito archeologico. Auspicio che per il momento deve fare i conti con la stringente realtà. Il personale in ferie, sono tre gli addetti impegnati a Canne della Battaglia, ha costretto a chiudere nel giorno di Ferragosto per la mala sorpresa dei turisti e prevedere la chiusura del sito anche per le prossime due domeniche. Restano le polemiche e i buoni propositi per il futuro prossimo. L'assessore al turismo del comune di Barretta, Giuseppe Gamarrota, ha scritto non solo al direttore del polo museale Fabrizio Vona, ma anche alla sovrintendente Simonetta Bonomi e alla direttrice dell'Antiquarium di Canne della Battaglia, Marisa Corrente, per esprimere sorprese e dispiacere per quanto accaduto a Ferragosto, evidenziare che il comune di Barretta aveva dato la propria disponibilità per la soluzione delle problematiche connesse alla gestione del personale addetto alla custodia e alla salvaguardia del parco archeologico e dell'Antiquarium e ricordare che la volontà dell'amministrazione comunale è quella di accrescere l'attività di promozione del territorio confermata dal successo della mostra su Annibale, allestita nel castello e visitabile sino al prossimo 22 gennaio, anche se Canne della Battaglia, sino alla fine del mese, almeno nei giorni festivi, non sarà visitabile.